Valentino Sante di Tommaso è il nuovo primario per la medicina interna dell'ospedale di Casteldisangro. Lo ha messo nero su bianco la direzione generale dell'ASL guidata dal manager Ferdinando Romano che con apposita delibera ha affidato l'incarico a di Tommaso al termine delle procedure concorsuali. In quattro si erano fatti avanti per ricoprire la posizione di vertice della medicina altosangrina. Nei mesi scorsi l'ASL aveva completato il puzzle dei primari anche per l'ospedale di Sulmona. nominati direttori di anestesia e rianimazione, cardiologia utic, ostetricia e ginecologia ma anche ortopedia e traumatologia scelti anche responsabili del reparto di radiologia dell'oculistica. I piani alti sono stati quindi tutti sistemati e rimpiazzati dopo anni in attesa di aggredire dal basso le solite diffuse carenze di personale che la stagione estiva riporta sempre alla luce.